Qual è la situazione sulle principali strade e autostrade italiane? Buongiorno Barbara, buongiorno Gianmarco, buongiorno ai nostri amici di Rai 1. La viabilità si presenta intensa soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative. Condizionati in questo momento dalla pioggia sull'A5, la Torino Courmayeur, quindi occasione questa per invitarvi ad essere prudenti alla guida di non superare i 110 km orari anche su asfalto drenante. Ma vediamo le immagini, monitoriamo proprio l'area Meneghina, qui siamo all'altezza di Fiorenza e come vedete c'è traffico congestionato ma ci sono code sia tra Sesso San Giovanni e Biale Certosa e due chilometri di code sulla tangenziale nord tra la strada statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro. Anche le direttrici capitoline sono molto congestionate, abbiamo code sia sull'A24 sia alla diramazione di Roma Sud e si sono sviluppate code per la chiusura delle tunnel e del traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e per varcare il confine di Stato occorrono 15 minuti di attesa. Con l'ausilio della grafica vediamo le criticità, un incidente che si è verificato questa mattina sull'A26, la Genova Gravellona-Tocic tra Casale Monferrato Sud e il bilio dell'A21 Torino-Piacenza in direzione Genova-Voltri. E poi sulla Roma-Napoli abbiamo un incidente con il coinvolgimento di un camion tra la diramazione di Roma Sud e il bilio dell'A24 Roma-Teramo in direzione Firenze. E poi abbiamo in provincia di Isernia la strada statale 85 Venafrana chiusa per una dispersione di carico da parte di un veicolo tra Presenzano e Venafro. La località interessata è quella di Sesto Campano, appunto in provincia di Isernia. Generano code anche i programmati lavori di manutenzione sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno che al momento sono di due chilometri tra Ginestra e Fiorentina e La Strassigna. Queste al momento le notizie di maggioriliera, ancora una volta ribadiamo l'invito ad essere prudenti alla guida e i miei più sinceri complimenti per aver condotto magistralmente questa edizione estiva di Uno Mattina Estate a te Barbara, a te Gianmarco e come si suol dire ad Maiora. Grazie, grazie ad Alessandra Canale per queste bellissime parole, grazie ancora.